Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Scoperto a Pescara dalla Guardia di Finanza, un medico di base che evadeva il fisco omettendo ricavi per 80.000 euro. Visite eseguite nel corso degli anni fa sapere la finanza senza mai dichiarare quanto percepito per le prestazioni vendute in rete. E' il frutto di un'operazione denominata coupon. In particolare le fiamme gialle del nucleo di polizia economico-finanziaria hanno accertato che il professionista, non pagando le tasse dovute, ha sottratto all'erario ricavi per più di 80.000 euro, oltre ad aver impiegato un dipendente in nero come rivelato dagli accertamenti riguardanti la sua posizione fiscale. I militari sono riusciti a calcolare l'ammontare del reale fatturato del medico ricostruendo il volume d'affari tramite la documentazione acquisita nel suo studio. Registri IVA, fatture e anche i dati estratti dal rapporto di partenariato con il portale di sponsorizzazione, piattaforma web di social shopping che permette attraverso un canale e-commerce la vendita di coupon che hanno diritto a offerte scontate per prodotti e servizi di vario genere, tra cui anche visite mediche ed esami clinici. Le verifiche investigative dell'operazione coupon hanno dunque fatto emergere un fenomeno di evasione fiscale nell'ambito dell'e-commerce.